Sono le otto e mezza circa, vi mostro l'alba, visto che è una bella giornata ne approfitto una volta tanto per mostrarvi il cielo a luna, c'è il cielo azzurro che ancora questa parte è molto scuro e non mette a fuoco bene Sembra sarà una bella giornata, allora buona giornata a tutti